Dopo un po' di burrasca tante cose positive, partiamo dal finanziamento approvato per il problema del rio Sguazzatoio e chiaramente l'operatività che può essere quasi immediata. Innanzitutto questo risultato dimostra che se si lavora, se si ha la testardaggine di andare fino in fondo i risultati si vedono. Io ringrazio innanzitutto l'onorevole Luigi Cobellis, ringrazio il Presidente del Consorzio di Bonifica e ringrazio l'Assessore Cosenza per averci dato questa possibilità di finanziare quest'opera di dragaggio del rio Sguazzatoio in modo da mettere in condizione tutti gli abilanti della zona in sicurezza e quindi non avere più il terrore che alle prime piolge possano vedersi allegati i propri casi, i propri terreni. Oltre a creare danni da un punto di vista di igiene, lo stradio per me del rio Sguazzatoio crea tanti problemi di sicurezza per gli abitanti della zona e quindi siamo particolarmente soddisfatti e continueremo in questa direzione per tutelare gli interessi dei nostri cittadini e gli interessi della collettività che vivono in una zona di degrado e di disagio. Siete uno dei pochi sindaci e dei pochi comuni che vuole far rispettare il referendum di qualche tempo fa fatto da comitati per l'acqua libera, l'acqua pubblica. Avete bloccato la Gori che sta togliendo sul territorio nel comune di Ancri e praticamente sta chiudendo l'acqua ai cittadini. Infatti noi ci siamo opposti con il mio provvedimento e quindi ho già allestati vigili che dove mai la Gori dovesse continuare in quest'opera devono essere fermate dalle nostre autorità perché noi riteniamo che anche ai morosi deve essere assicurato un minimo di fornitura per i bambini e gli anziani perché oltre a determinare un problema di sicurezza e di igiene determina anche un problema di pubblica sicurezza che il sindaco è tenuto a far rispettare. Quindi questa lotta la porteremo fino all'estremo conseguenza perché bisogna avere rispetto per coloro i quali in questo momento non hanno la possibilità di poter pagare dare la possibilità di avere il massimo della raterizzazione e nel contempo assicurare un minimo di fornitura così come stabilisce la Commissione Mondiale della Sanità di quei litri necessari al giorno per poter sopravvivere. Quindi rispetto a questo saremo vigili, fermi e assicureremo il nostro appoggio incondizionato a tutti i cittadini che verranno a trovarsi in queste condizioni. State girando la città per parlare del PUC ultime riunioni prima delle approvazioni definitive un percorso fatto con i cittadini cercando la massima partecipazione. Noi abbiamo una visione di sviluppo di questa città però non riteniamo di essere i destinatari delle verità per cui ci sottoponiamo ad un giudizio continuo ad un confronto continuo con i cittadini, con i sindagati con le attività, con i rappresentanti dei commercianti, degli industriali perché vogliamo conoscere anche qual è la loro visione di sviluppo di questa città perché vogliamo confrontarci, perché alla fine il PUC che sarà approvato dovrà essere condiviso e sentito da tutti i cittadini inglesi. Quindi questo è lo scopo per cui noi stiamo incontrando tantissimi cittadini abbiamo già programmato altre riunioni una via nazionale presso la parroccia della chiesa sito in quel posto poi alla fine tireremo le conclusioni e nomineremo alcuni tecnici o alcuni cittadini che in queste riunioni hanno dimostrato di essere interessati a partecipare insieme a noi alla radiazione definitiva del PUC perché vogliamo, come Pocanzi ha detto che questo strumento sia il massimo delle risposte che possiamo dare al territorio che sia condiviso e che possa rappresentare l'esigenza di qui nei prossimi vent'anni. Ci sono stati, c'è stata qualche polemica ci sono stati dei problemi nella maggioranza oggi come è messa la maggioranza legata al sindaco Mauri la questione politica? Noi è convocato un consiglio comunale per giovedì all'interno del quale discuteremo anche di questo non ho mai avuto pure dei numeri né della contrapposizione noi abbiamo un nostro programma che lo sottoporremo a tutti e vedremo chi vuole bene questa città e chi vuole mettersi in condizione di poter collaborare insieme a noi per risolvere ancora tanti problemi che Angri vive quindi giovedì sarà il banco di prova noi ci presenteremo con la nostra idea con le nostre proposte disponibili a discutere con chi ha a cuore il bene di questa città con chi vuole concorrere a determinare un risultato noi siamo fiduciosi perché abbiamo dimostrato sul campo che vogliamo bene questa città i provvedimenti posti in essere sono tantissimi e le cose che vogliamo fare e che stiamo facendo sono ancora tante per riportare quest'angria e lì che merita e le cose che vogliamo fare